Leggira è la fuga di Maometto dalla Mecca ed è molto importante perché i musulmani decidono di indicare l'anno zero da questo avvenimento. Il nostro calendario, il calendario cristiano rispetto a quello musulmano. Per ricordare questa data basta ricordare il 2. Per quale motivo? 2 per 3 uguale 6. Poi si ripete per due volte il 2. 2, 2. La data è 622 dopo Cristo. Ciao al prossimo video, vi aspetto!